Guardate, ho qua in mano delle giollette di zucchero, un tempo era una spezia antica, addirittura molto rara, faceva bene addirittura allo stomaco, e beh oggi è un po' il nemico moderno, ma chi non piace lo zucchero? Diciamolo a tutti noi, e beh bisogna bilanciarlo nella nostra alimentazione, e in che modo? Ci darà tanti consigli il professor Attilio Speciani, benvenuto caro professor Speciani, ricordo è specialista in immunologia, allergologia, oggi non lo so dire, e professore del master nutrizione umana all'università degli studi di Pavia, anche la mia lingua ogni tanto, beh perché mangio poco zucchero, per colpa sua, ho mangiato poco zucchero, però oggi vi diremo esattamente come bilanciarlo nella nostra alimentazione. Allora la prima domanda però è d'obbligo, perché io ho detto che è un nemico moderno, lo consideriamo un nemico moderno, anche perché se esageriamo che cosa succede nel nostro organismo? La gente pensa sempre al rapporto tra zucchero, diabete o sovrappeso, ecco in realtà, infatti la gente misura la glicemia, dice me la sono scampata, non ho il diabete, ecco in realtà il diabete e il sovrappeso sono la punta d'iceberg di una situazione molto più ampia sotto, che sono legati alla deposizione delle sostanze ossidanti, cioè attento per le donne radicali liberi ad esempio, che vedi che hai subito risposto, che quindi vanno su tutte le strutture di funzionamento. Quindi in realtà purtroppo emoglobina glicata e glicemia a digiuno servono per seguire bene il diabete già in corso, ma non riescono ad identificare il prediabete, cioè le condizioni. Posso dare un numero? Un numero è che il CDC di Atlanta, che è l'organismo mondiale che dice come ci si ammala, parla del prediabete in una variante tra il 38 e il 52% della popolazione mondiale, uno su due, uno su due. E nessuno lo sa. E poca gente lo considera. In più, qui siamo in una situazione in cui la provvidenza è considerata, no? Assolutamente sì. Ma diamole una mano alla provvidenza, conoscendo e misurando. Ad esempio vedo qui che sono due profili di glicazione indicati. Albumina glicata e metiliossale sono tra i biomarcatori, parola difficilissima per dire due analisi del sangue, che possono consentire di capire se ci sono già dei danni, indipendentemente dalla tua glicemia digiuno. E allora come dobbiamo, lì vediamo due grafici, insomma, ce li può spiegare quei due grafici? Allora, questi sono questi due marcatori. Uno è l'albumina glicata, che è carina perché lei gira per il sangue, mica come l'emoglobina glicata che sta chiusa nel suo globulo rosso, tutta riservata. E quindi, ad esempio, non legge la frutta, non legge l'alcol, non legge i dolcificanti. Ma come facciamo a sapere se c'è qualcosa che non va nel nostro... Vedi che abbiamo sopra, perché la logica sempre è personalizzare, e abbiamo un indice di glicazione, in quel caso ho messo uno basso e uno alto, che ci aiutano a capire esattamente poi quanto e come possiamo mangiare di zucchero, che non sono mai negativi. Abbiamo degli ormoni che ce li fanno cercare, dobbiamo capire come gestirli. Abbiamo anche qui degli esempi estremamente interessanti. Esatto, abbiamo degli esempi. Io infatti vorrei partire proprio da questi due piatti che ha davanti a lei. Beh, in un piatto c'è della pasta, dell'insalata e della frutta, in un altro piatto vediamo dell'insalata, la pasta e della carne. Allora, qual è, come dire, un piccolo esempio ovviamente, qual è la composizione esatta? Beh, è interessantissimo però, è interessantissimo perché questi due piatti hanno le stesse calorie e uno dice, quindi sono le stesse calorie e me le mangio. In realtà l'indice glicemico di questa cosa, che sono solo carboidrati, sani anche della frutta, di una pasta asciutta fatta molto bene, della verdura, lì ci sono anche proteine e fibre, in realtà rallentano l'assorbimento e quindi i livelli di glicazione sono bassissimi. Attenzione, un piatto di questo tipo rispetto a questo fa anche passare la voglia di zuccheri o di dolci o di carboidrati dopo, perché questo dopo circa mezz'ora torna, hai dei picchi, la discesa e quindi torna la voglia di mangiare di nuovo carboidrati, zuccheri o dolci. Per cui è questo, c'è la nostra composizione di essere fatto così con l'insalata, della pasta. Non l'ho inventata io, l'hai inventata l'Harvard. Il piatto di Harvard, infatti, è il piatto sano, dovremmo comporlo così, addirittura vendono in commercio, ci sono dei piatti che sono anche molto esplicativi, nel senso che c'è una parte di proteica, una parte di carboidrati, una parte di fibre che non devono mai mancare, questo è il piatto esatto, però ci sono degli alimenti dove lo zucchero è nascosto. Sì, lo zucchero è presente, per cui lo sappiamo che sono nei carboidrati, soprattutto quelli raffinati, lo troviamo come nelle bevande dolcificate, è una quantità esagerata, nelle marmellate, perché nelle marmellate, anche se non c'è zucchero aggiunto, in realtà la marmellata la fai con la frutta, frutta fruttosio, che contiene fruttosio, la metà di quelle zollettine che teneva in mano, Monica, è metà glucosio, metà fruttosio, cioè lo zucchero bianco è fatto metà fruttosio, metà glucosio, quindi abbiamo una situazione in cui anche la frutta talvolta merita un'attenzione. Allora, abbiamo letto nel cartello eccesso di frutta, però la frutta, tanti nutrizionisti, anche lei, come ha detto, la frutta deve essere consumata, i famosi 5 pasti che noi dovremmo fare al giorno, frutta o verdura? Io vado alla frutta perché è più dolce, sono una mangiata di frutta, soprattutto in questo periodo, l'estate, come dire, tra albicocche, pesche, ciliegie, fragole, insomma, ce ne sono, allora, come però ci dobbiamo comportare con la frutta? Allora, intanto dipende, il concetto di misurazione, tra l'altro lei Monica è stata una tra le prime a valutare sia il glicotest che per me e quindi ad avere una misurazione specifica, che è un'indicazione. Un quadro, io sto seguendo, è un quadro preciso, è ovvio, io ad esempio che vengo da una familiarità diabetica, una storia di facilità all'ingrassamento, devo prediligere la verdura, qui sotto, questo sembra Pompelmo, in realtà lo so che è un'arancia, però una spremuta di due arance, cioè 120-130 grammi per ciascuna, due normali spremute, questa cosa qui contiene, in fruttosio, contiene l'equivalente di 6 cucchiaini di zucchero, che, e tu dici, ma c'hai le vitamine, abbiamo una roba, abbiamo l'altra, e quindi, certo, se fai un muco di attività fisica non hai una dipendenza glicemica come me, eccetera, però ecco, dobbiamo integrarla in un concetto di personalizzazione. Allora, iniziamo a rispondere a un po' di domande, rispondiamo a Paolo, ci scrive da Ancone e ci chiede, per colazione ho sempre voglia di dolce, dovrei evitare, o un po', la maggior parte degli italiani mangia, ha bisogno di dolce. Sì, allora, la prima cosa che ti dico è che è molto probabile che la prima, la cena prima tu l'abbia fatta in questo modo, e non in quello. Cioè, senza proteine, senza fibre. Esatto, perché quindi hai avuto un picco e poi di nuovo una voglia di dolce, e poi ci sono delle modalità per poter fare truccare, in un certo senso. Allora, qualche esempio di prima colazione che ci possiamo permettere, perché io dico, comunque, come l'hai detto, la colazione, lo zucchero, è comunque, soprattutto per chi fa la colazione dolce, vuol dire, fa iniziare anche bene la giornata. Fa iniziare, ed è anche il momento in cui la metabolizziamo meglio. Ma se io mi mangio una brioche integrale, anziché una brioche non integrale, ci metto insieme un po' di noci, mandorle e varie, e magari un uovo sodo, che è un elemento proteico, ecco che senza alterare troppo, però ricreo questo tipo di piatto e posso avere un'azione. Personalmente io non vado a cercarmi lo zucchero e quindi pane integrale con una, magari con una crema di nocciole o di mandorle al 100%, quindi senza zucchero, e ho già raggiunto la quantità di proteine necessarie e faccio una colazione simpatica, pucciando anche nel mio caffè latte o nel cappuccino. Professore, io ho detto all'inizio che lo zucchero è da un po' di anni considerato il nemico numero uno. In realtà c'è un'allerta anche per quanto riguarda i dolcificanti, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto attenzione, ci vuole spiegare meglio perché adesso addirittura i dolcificanti non possiamo consumare? Ma intanto perché il concetto è proprio quello che spiegavo prima, cioè il dolcificante non innalza immediatamente la glicemia, perché hanno tre cause, uno perché vanno a seguire la via del fruttosio, della stessa frutta, quindi non è immediata la risposta, secondo è che purtroppo i dolcificanti vanno ad accentuare la produzione di quella sostanza, il metilio sale di cui parlavamo prima, che quindi genera il fastidio. E il terzo è che un'analisi dei rischi ha detto che chi mangia lo zucchero o chi mangia i dolcificanti ha lo stesso rischio cardiovascolare, e allora tanto vale. Allora, lo vogliamo dire, non dobbiamo togliere tutti gli zuccheri. Ma non dobbiamo togliere niente, io dico che non esiste un cibo contro, non esiste un cibo nemico, dobbiamo imparare a misurarlo. Allora come, parliamo di quantità, come ci dobbiamo comportare? Ma sai, ci sono anche delle scelte interessanti da fare, perché nel momento in cui noi lo riduciamo e iniziamo qualsiasi pasto con delle sostanze crude, quindi mettendo dentro della fibra e poi andiamo a misurare, quello ad esempio è una mia valutazione in cui mi dice misurando l'albumina glicata e metterli a sale, arrivo ad avere un indice di glicazione abbastanza alto e lì c'è scritto quante unità zuccherine posso mangiare. Che significa 15 unità? 15 unità per me? No, no. 15 unità? 15 di queste? Un buon bicchiere di vino sono 5 unità, una fetta di torta sono 5 unità. Quindi dice, nella settimana te c'hai 3 bicchieri di vino buoni, 3 fette di torta in un numero di pasti, cioè questo è quello che quel livello, che è un livello elevato di glicazione, se vuoi dare una mano alla provvidenza come dicevamo prima, goderti lo stesso la vita e l'esistenza, gestirti dei buoni sconto per le vacanze, eh sì, no, ci vogliono, però significa che a quel punto abbiamo la possibilità di misurare, quindi una valutazione precisa per consentirci di vivere meglio. Allora, lo dobbiamo ridurre, allora già un po', ci ha dato un po' di consigli il professore, no? Magari abbinare, come ha detto prima, magari a una fonte, lo zucchero, magari ci mettiamo anche un po' di frutta secca, abbassa l'indice glicemico. Qualche altro consiglio per ridurre il consumo degli zuccheri? Quale può essere? Ad esempio, pensa a dei frullati, no? Uno si fa un frullato a base di fragole, di frutta, di banana e di bevanda di riso. Il complessivo di questa cosa sono circa 50 grammi di carboidrati, di cui 30 sono zuccheri e non ha dentro proteine. Se fai invece un frullato di carote, di finocchi, di mandorle e di acqua, hai una quantità di proteine elevata, è fresco lo stesso, va bene per la nostra estate, anziché 40 grammi di carboidrati ce ne hai dentro solo 10 e vedi che abbiamo fatto delle scelte fresche, positive, adatte al sole che spero che arrivi, perché ieri arrivando da Milano la pioggia era dominante. E quindi per un'estate più fresca. Un'estate più fresca, beh, sicuramente il mio dolce preferito, lo ammetto. E vabbè, la mia colazione è abbastanza equilibrata, mangio i musli con un po' di frutta secca, per cui non è... però io non posso rinunciare durante l'estate al gelato. Il gelato. Vabbè, qualche volta mi invita, perché ve lo dico anch'io, va bene. Il gelato, quello artigianale che è ancora, secondo me, più buono. No, invece il suo dolce preferito, professore? Io ho due risposte, velocissime. Una che è scientifica, nel senso che il cheesecake ha dentro due proteine sufficienti per bilanciare. E poi c'è un'altra che invece è strategica, che è la tarta ten fatta da mia moglie, perché se non lo dico probabilmente è divorzio. Non torna a casa. Quindi ne ho almeno due. Due, grazie, grazie di cuore. Grazie a voi, come sempre. Grazie per averci dato questi consigli. Beh, che comunque lo zucchero non va mai demonizzato. Deve essere, insomma, gestito e misurato. Grazie, grazie davvero, professor Attilio Speciani.